E-Nail non risparmia critica all'agenzia unica ispettiva nella quale coinfluirà il personale di E-Nail, IMS e ispettorato del Ministero del Lavoro. Si vogliono ridurre i controlli e soprattutto l'autonomia da parte di IMS e E-Nail che verrà meno. Poi c'è tutta la parte relativa al controllo a distanza che trasformerà in sostanza i luoghi di lavoro in grande fratello. Per l'associazione dei liberi professionisti sotto accusa in particolare il decreto sui controlli a distanza perché, dicono, faranno nascere moltissimi contenziosi. Il controllo a distanza sui lavoratori attraverso telefonini, pc e tablet. Questo in sintesi consente l'articolo 23, il più contestato dei sindacati e non solo, di uno dei decreti attuativi del Jobs Act che, dopo l'articolo 18, abbatte un altro totem dello statuto dei lavoratori che non ammetteva controlli a distanza, prevedendo comunque sempre di una libera del sindacato, ma solo per necessità organizzative e produttive. Ora invece il controllo, anche seguendo l'attuale giurisprudenza, viene steso anche per la tutela del patrimonio aziendale, una dicitura che apre a tante possibilità di intervento, pure in casi particolari, come ha affermato la Cassazione, sulle e-mail. Se poi non c'è accordo con i sindacati, l'autorizzazione può essere data dalla direzione territoriale del lavoro e non può essere impugnata. Nessun via libera preventivo, invece, per il controllo degli strumenti utilizzati per rendere operativa la prestazione lavorativa e degli strumenti di registrazione degli accessi e presenze. Tutte le informazioni possono essere poi utilizzate per i fini connessi al rapporto di lavoro, a condizione che il lavoratore sia stato informato sulle modalità di uso e dei controlli e fermo restando rispetto della privacy. Grazie.